Buonasera a tutte e a tutti, gentile pubblico virtuale, caro Antonio Scurati, caro Lothar Müller, è un autentico onore, è un vero piacere per me, in veste di direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Berlino, poter dare l'avvio questa sera a un incontro tanto significativo. Il dialogo fra Antonio Scurati e Lothar Müller, a cui fra poco assisteremo, è infatti l'evento letterario più importante della presenza italiana a questa edizione particolare della Fiera del Libro di Francoforte. Al centro dell'incontro sta un progetto originalissimo a cui lavora da qualche anno Antonio Scurati, un progetto di ampio respiro che attraversa tutta la vita di Benito Mussolini e insieme la progressiva, inesorabile fascistizzazione dell'intera società italiana. M, l'uomo della provvidenza, è il secondo volume che prosegue M, il figlio del secolo, il primo romanzo che è stato consacrato nel 2019 in Italia dal premio strega ed è diventato presto un successo internazionale tradotto in una quarantina di lingue. In Germania è apparso quest'anno nella traduzione di Verena von Koskul, M, der Sondes Jahrhunders. Il primo romanzo narra il divenire personale e politico di Mussolini e l'ascesa del fascismo fino al 1924. Il secondo l'affermazione totale del nuovo potere con le sue ambizioni colonialistiche e imperialistiche fino al 1932. Richiamare alla memoria del presente e degli italiani la storia del primo dittatore dell'infelicissimo novecento è di per sé un'impresa notevole e oggi per tutte e tutti noi estremamente significativa. Ma decisivo è il modo in cui Scurati ha scelto di farlo, con stralci e citazioni di fonti e documenti mai pubblicati che vengono a marcare capitoli brevi che affondano nella vita e nei pensieri di Mussolini come in quella di una miriade di personaggi e in quei capitoli l'autore si rende invisibile. La scrittura densa di Scurati racconta Mussolini, i suoi comprimari, le sue donne, da libero corso alle loro psicologie, persino alle evidenze dei loro corpi. È un romanzo documentario, certo un affresco storico, senza dubbio, ma soprattutto è una scrittura libera e coraggiosa che ci mette di fronte alle illusioni, alle miserie e agli orrori di una storia che non è solo italiana, ma anche europea. E a condurre il dialogo con Antonio Scurati, che oggi insegna scrittura creativa e retorica all'Università Juhl di Milano, l'interlocutore ideale non poteva essere che Lothar Müller, apprezzatissimo saggista, critico letterario per i più importanti quotidiani tedeschi, professore onorario alla Humboldt Universität di Berlino. Ma prima di dargli la parola, mi consento solo due avvertenze tecniche per il nostro pubblico virtuale. Scurati parlerà in italiano, Lothar Müller in tedesco. Potrete sentire il loro dialogo in originale con la traduzione simultanea. In alternativa c'è la possibilità di avere i sottotitoli e basta che selezionate poi la lingua desiderata sulla piattaforma Zoom. Sarà possibile inoltre seguire direttamente l'intero dialogo anche in inglese, scegliendo di nuovo l'apposito canale sempre su e a questo punto invito Lothar Müller a prendere la parola. Grazie a tutti, dottoressa Foy. La fiera di Francoforto si è dispersa per tutto il mondo. Signore e signori, io vi do il benvenuto, ovunque siate in questo momento, un cordiale benvenuto ad Antonio Scurati. Io la pregherei, cioè io vorrei informare gli spettatori ciò che abbiamo preparato. Abbiamo due passi dal romanzo, quindi potete ascoltare due letture, poi avremo una discussione. In questi punti di Zoom potete anche pensare di porci qualche domanda. Verso la fine dell'evento avremo 10 o 15 minuti. Iniziamo con le mie domande a lei, Antonio Scurati. Abbiamo già sentito il primo volume, Il figlio del secolo, è già apparso, il secondo volume è uscito in Italia. È un grandioso progetto, ci vuole un forte motivo per avviare un progetto così ambizioso. Come descriverebbe questo motivo centrale che la spinge a prendere questo progetto come impresa? Il motivo principale ad essere onesti è che non era mai stato fatto. Non era mai stato fatto prima d'ora. Se vogliamo una motivazione di tipo, non lo so, tardo romantico, se volete, ma innanzitutto questo non era mai stato fatto. Prima di spiegare che cosa significava per me che questo progetto era in qualche misura inaudito, saluto anch'io chi ci sta ascoltando dalla Germania, dall'Italia, magari anche da qualche altro paese. Cosa significava per me che fosse un progetto inaudito? Aveva ed ha un significato storico ed esistenziale, tutte e due le cose. Io ricordo quando ebbi la prima intuizione di questo impegno letterario che mi avrebbe impegnato duramente per anni a venire, accadde alcuni anni or sono, stavo lavorando al mio romanzo precedente, quello dedicato a raccontare la vita di un grande antifascista. Vale a dire la vita di Leone Ginzburg, grande intellettuale, fondatore della casa editrice inaudi e irremovibile antifascista. Non è un caso che io abbia scritto prima un romanzo dedicato a una grande figura dell'antifascismo e soltanto dopo abbia concepito l'idea di raccontare il fascismo attraverso i fascisti. Io stavo scrivendo un romanzo dedicato alla figura di Leone Ginzburg e ai miei nonni perché appartengo a quella che un mio amico scrittore italiano definisce la generazione degli ultimi ragazzi del secolo, ovviamente del secolo scorso. Io sono nato nel 1969 e sono stato tra gli ultimi ad essere stati ragazzi, diciamo, prima che finisse il novecento. Questo significa che appartengo alla generazione, forse l'ultima generazione, che è stata educata negli ideali e nei miti dell'antifascismo e della resistenza. E ho sempre sognato, desiderato, fin da quando ero ragazzino, di scrivere un romanzo che avesse per protagonisti i partigiani, i combattenti contro il nazifascismo. Non Mussolini o i fascisti, non subivo nessuna fascinazione da parte loro. E l'ho fatto. Ma mentre lo facevo, ricordo che un giorno vidi quelle immagini viste tantissime volte in Italia e all'estero, il repertorio di Mussolini che dialoga con la folla dal balcone di Palazzo Venezia, nelle cosiddette adunate oceaniche. E all'improvviso ebbi un'intuizione. Lo vidi con occhi nuovi, come se l'avessi sempre guardato, ma mai visto davvero. E dissi a me stesso, questo qui non l'ha mai raccontato nessuno. Ovviamente sapevo bene che esistono intere biblioteche di saggi, di memorie, dedicati allo studio del fascismo e alla sua rievocazione storica. Ma ciò che non era mai stato fatto era di raccontare il fascismo dal di dentro, attraverso i fascisti, con la forma del romanzo. Una forma particolare di cui magari dopo parleremo. Ma questo era il gesto, diciamo, letterario, culturale, inedito, inaudito. Dico inaudito perché se non era mai stato fatto c'era un motivo, un motivo molto forte. Era in qualche misura proibito. Non c'era una proibizione esplicita, ma c'era una sorta di tabù. Non si poteva raccontare Mussolini come il personaggio di un romanzo. Noi in Italia, in Europa, abbiamo conosciuto negli ultimi 70 anni il fascismo, il nazismo, i totalitarismi, attraverso soprattutto il racconto delle loro vittime, dei loro oppositori. Le nostre democrazie, le nostre repubbliche si fondano su quella narrazione. Ed è stato necessario, giusto, sacrosanto, che fosse così. Ma così non può più essere, per ragioni storiche, che prescindono dalla mia volontà o dalla volontà dei nostri interlocutori. L'egemonia indiscussa della narrazione del fascismo, ma anche del nazismo, da parte delle loro vittime, è caduta, storicamente. Oggi, se io mi rivolgo ai tanti, purtroppo troppi, ragazzi che nelle scuole italiane militano informazioni politiche di estrema destra e si richiamano in maniera folle e delirante all'esperienza fascista, e dico loro che il fascismo è stato il male assoluto, loro mi guardano con aria di sfida e mi chiedono perché. Ecco, quel perché dieci anni fa, quindici anni fa, sarebbe stato inconcepibile. E inconcepibile era un racconto totalmente libero dalla narrazione dal punto di vista delle vittime. Le due cose sono concomitanti. Cade questa egemonia culturale del racconto vittimario e al tempo stesso il fascismo viene rimesso in discussione consapevolmente o inconsapevolmente. Ecco che all'alba dei 50 anni, avendo vissuto io la prima metà della mia vita dentro una narrazione antifascista su cui si fondava la democrazia italiana ed europea, mi trovo al punto in cui tutto questo non tiene più, non regge più. E allora mi dico, oggi è finalmente possibile raccontare il fascismo da un punto di vista che non è neutrale. Io non sono affatto neutrale, io rimango antifascista, ma che ha quella libertà di raccontare dal di dentro che prima non era concesso e diviene dunque necessario farlo. Perché questo racconto, nella mia ottica, significa ritornare a ingaggiare quella lotta di idee che rinnova i valori democratici e antifascisti su una nuova base. E' qualcosa da cui, secondo me, tutti noi, sinceri e democratici, non possiamo esimerci. Non possiamo più confidare nella narrazione del Novecento. Dobbiamo dare una risposta a quei giovani, ma anche a noi stessi, che ci guardano e ci chiedono perché. Dobbiamo tornare a impegnarci. E impegnarci significa, per un narratore, per un romanziere, raccontare su nuove basi. In questo modo io credo di farmi erede della tradizione novecentesca dell'antifascismo e della democrazia liberale. In qualche modo rinnovandone la narrazione su basi diverse. Quindi lei si è inserito nel filo della storia. Lei ha anche menzionato la generazione dei suoi nonni. Vorrei fare un seguito. Lei è nato nel 1969, quasi mezzo secolo dopo il 45. Lei nacque. Quindi lei descrive una specie di scritto, una rottura con l'eggemonia della narrazione antifascista. Lo spazio in cui lei è cresciuto non è del tutto abbandonato. Cioè questa storia esiste ancora. I testi ci sono. Gli autori ci sono. Quindi lei scrive in uno spazio, dentro uno spazio. Ma ciò che scrive lei non è il completamento di una storia non raccontata appieno, ma è ciò che noi potremmo chiamare una nuova angolatura, una angolatura nuova di ciascuna nuova generazione. Lei ha scritto un saggio che si chiamava la letteratura dell'inesperienza. In tedesco si direbbe che è la letteratura degli inesperti o una letteratura della caduta dell'esperienza o della mancanza totale dell'esperienza. Io credo che lei si riferisca alla seconda versione. Dove sta questa mancanza, questa perdita di esperienza? Sì, questa la ringrazio. Questa è una considerazione fondamentale. È una premessa di ciò che io dicevo prima. C'è una condizione storica che al tempo stesso consente e in qualche modo obbliga questa nuova apertura di racconto. Lei l'ha chiamata una nuova angolatura. E l'inesperienza è parte significativa di questa condizione storica. Io appartengo, non è un caso che molta della più significativa, dal mio punto di vista, letteratura europea, non italiana, non solo italiana, degli ultimi anni e decenni, abbia scelto come materia narrativa la grande tragedia politica del secolo scorso, Seconda Guerra Mondiale, Prima Guerra Mondiale, guerre postcoloniali, ma raccontate da scrittori che per dato biografico e anagrafico non hanno vissuto quelle tragedie. È quasi un prerequisito. A cominciare da Littell con le Bienveillantes in Francia, fino a Viesercas in Spagna, fino, penso, non so, in Germania, alla Petrosca, e potrei nominarne tanti altri. La materia del racconto è l'epopea tragica della politica novecentesca, ma raccontarla è una generazione che non ha nessun legame esperienziale con quei fatti. Littell è emblematico perché racconta l'Olocausto, è un ebreo però cresciuto negli Stati Uniti, la cui famiglia si era trasferita negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento, quindi non c'è, come dire, una memoria del sangue diretta all'origine del suo racconto. È una forma di libertà creativa, ma anche di condanna al non vissuto. Quando io parlo di inesperienza, attingo a un concetto che originariamente fu concepito da Walter Benjamin, quando opera la sua distinzione tra Erlebnis e Erfarerum, perdonatemi la pronuncia terribile. Benjamin fu il primo che, come è noto, osservò che i reduci della Prima Guerra Mondiale, tornando dal fronte, che era sempre stata la guerra, la materia narrativa per Antonomasia, erano muti, ammutoliti, non erano più ricchi di storia da raccontare, ma erano quasi privati della facoltà di raccontare. Quell'accadimento era legato al mutamento della struttura della guerra, che rendeva gli individui del tutto incapaci di misurare ciò che accadeva sul metro della propria persona, della propria esperienza. Due o tre generazioni dopo, noi, e qui mi riferisco alla mia, figli di questo Occidente privilegiato, ricco, agiato, apparentemente o fintamente felice, questo fino a un paio d'anni fa, viviamo una diversa inesperienza. Cioè, le azioni dell'esperienza sono cadute, diceva Benjamin, e hanno continuato a cadere. L'80, il 90% della nostra vita è oggi nutrita non da esperienze vissute, Erlebnis, ma da esperienze mediate. Noi siamo spettatori della vita altrui, soprattutto della sofferenza, della distruzione, della guerra, della morte, indiretta, una data fondamentale insegnata dalla telecronica televisiva indiretta per la prima volta nella storia dell'umanità durante la notte tra il 17 e il 18 gennaio del 1991, la prima guerra del Golfo, quando i cronisti della CNN poterono trasmettere in diretta televisiva il bombardamento di Bagdad. Io avevo vent'anni, in quel poco più. In quel momento, da un lato dello schermo, migliaia di persone morivano sotto le bombe. Da quest'altro lato dello schermo, io stavo seduto comodamente sul divano di casa mia e bevevo una birra. Ecco, questo tipo di tragica scissione nel cuore dell'esperienza non si era mai prodotta prima nella storia. Ed è qualcosa che, secondo me, ci ha segnato profondamente, anche come scrittore. Allora, la possibilità di rievocare il passato con quella libertà di immersione nostra dello scrittore e del lettore nel corso degli accadimenti, che ci è consentita dal romanzo e da nessun'altra forma di scrittura, con la quale io chiamo il lettore, chiunque esso sia, nel modo più democratico possibile, qualunque sia il suo titolo di studio, qualunque sia il suo livello culturale, qualunque sia il suo sesso, la sua età, la sua religione, gli dico, entra, vieni, le porte della conoscenza ti sono aperte, non c'è nessun prerequisito, non devi aver studiato storia, non devi avere un dottorato di ricerca, non devi essere un intellettuale, immergiti negli accadimenti come se tu li stessi testimoniando nel momento in cui accadono. Ecco, questo è il tipo di dono che giunge al lettore dalla forma romanzo e questo diventa possibile solo per uno scrittore come me che è nato dentro l'epoca dell'inesperienza. Prima erano titolati a raccontare soltanto i testimoni, soltanto quelli che avevano vissuto Erlebnis sulla propria pelle, in prima persona. Nell'epoca dell'inesperienza questo tipo di testimonianza non ha più corso. Allora diventa possibile e necessario raccontare a partire da un'assenza di esperienza. Ed ecco che c'è l'enorme apertura della forma romanzo con i suoi rischi, con i suoi rischi, e le sue virtù. Allora immergiamoci nel primo volume che inizia nel 1919 che inizia con l'inarrestabile ascesa di Benito Mussolini. Siamo nell'estate del 1919. Ascoltiamo ora. Benito Mussolini Stand von Senigallia Ende August 1919 fliegen. Doch eigentlich liegt er ebenso gern am Strand von Senigallia im glühenden Sand, breitbeinig, Le clownartiche Hände seitlich hingestreckt Der nackte Körper in der sengenden Sonne Das Schambein vorgeschoben Um die weidlichen Badegäste in Verlegenheit zu bringen Er mag es Schwimmen zu gehen und danach zu spüren Wie das kühle Wasser auf seinem Schädel In der mediterranen Hitze verdunstet Alles vergeht in diesem Dampf In der allesverschlingenden Schwüle Der Superstreik hat sich im Wohlgefallen aufgelöst due gründe per il Scheidere l'anfiri di affidio l'ha del senso l'italia è un paese l'antaggio l'unico l'unico l'antaggio di Europa che in seva 2000 anni la storia una riuscita l'unico l'unico un'glazione un'allico un' sevente e che non è un'allico l'unico 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 o'unico l'unico Da braucht es schon einiges mehr Armut lässt sich nicht vergesellschaften Und so wurde die Revolution Nicht zuletzt während des lang erwarteten Superstreiks Auf unbestimmte Zeit verschoben Geht wieder nach Hause Genossen Wir haben uns geirrt Der Tag des Schicksals ist nicht heute Die italienischen Sozialisten Haben die Erstürmung des Regierungspalastes Noch einmal vertagt 1917 in Russland Sollte der Winterpalast erobert werden Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern Waren die Bolschewiki in die Meter hoch Von haarschigem Steh umgebende Winterresidenz Der Zaren gestürmt, um den Tyrannen zu stürzen Doch in Italien herrschte der Sommer Hierzulande wurde allem Was hätte passieren können Stets von einem lachhaften Aufschub Der Wind aus den Segeln genommen Ein anderes Mal Genossen Ein anderes Mal Auch für die Faschisten ist der Superstreik Ein Schlag ins Wasser gewesen In den Tagen der Unruhen Waren sie fast ganz allein Gegen die sozialistischen Massen Auf die Straßen gegangen Sie waren immer noch weniger Und wurden womöglich immer weniger Dem April vom Pietro Nenni Gegründete Ortsgruppe Bologna Hatte sich Anfang August bereits wieder aufgelöst Interne Streitereien Ideologisches Gezänk Intrigen Und dann Alle ab ans Meer Kein Wunder Dass man mit diesen wenigen Gegen den Superstreik Nur ein paar dürftige Possen Zugunsten des verhassten Bürgertums Zustande gebracht hätte Diese Handvoll lachhafter Faschisten Hat es gerade mal geschafft Ein paar Straßenbahnen Durch die Gegend fahren zu lassen Und mit den zurückgelassenen Besen In der auf der Revolution wartenden Straßenkehrer Den ein oder anderen Gehsteig zu fegen So ist Italien Eine einzige Komödie Nichts als Komödie Das ist ihr Schicksal Der komische Schluss Deshalb hatten sie keinerlei Schicksal Komödie oder Tragödie Fast immer beides Doch Ernsthaftigkeit nie Auch die heroische Flugunternehmung War zwischen diesen beiden Gegensätzen Hängen geblieben Der erste von Mil Popolo Die Italie Am 2. August Organisierte Propagandaflug Der das drückende politische Klima Aufhellen sollte Endete in einem Fiasko Auf dem Rückflug von Venedig Stürzte die vom Kriegsass Luigi Ridolfi Gesteuerte Maschine In Verona Unweiter Porta Palio ab Nur 500 Meter vom Flughafen entfernt 17 Tote Und die Moral zu heben Hatte er darauf beharrt Weitere Flüge stattfinden zu lassen Am 8. und am 22. August Gewiss keine so großartigen Unternehmungen Wie Danunzius Überflug von Rom nach Tokio Nahe Ziele, regionale Strecken Mantua, die Seen der Voralpen Der Leiter der Zeitung Hatte die gesamte Redaktion an Bord geholt Doch wegen der ungünstigen Wetterbedingungen Der Pannen und des mangelnden Treibstoffs Hatten sie sich abermals lächerlich gemacht Drei Tage hatten sie zwischen Brescia Und dem Flugfeld vom Gedi pendeln müssen Den Unteroffizieren, die sie auf einem Fuhrwerk Hin und her karten Hatten sie sogar das Frühstück bezahlen müssen Die Tragödie Die Komödie Die Streiterei Letztere durfte nie fehlen Vor kurzem waren die Ergebnisse Der von der Regierung in Auftrag gegebenen Untersuchung der militärischen Katastrophe Von Caporetto veröffentlicht worden Und selbst nach Jahren Selbst nach dem triumphalen Endsieg Hatten diese Dokumente Über die Verantwortung der Oberbefehlshaber Die Kriegsgegner zurück auf den Plan gerufen Und als wäre der Krieg nicht schon vor geraumer Zeit Begonnen und beendet worden War alles von vorn losgegangen Jetzt ist sein Körper wieder ganz getrocknet Und er beginnt zu schwitzen Der Strand ist menschenleer Auch das Wahlbündnis der interventionistischen Linken Für die Wahlen im kommenden November War abermals baden gegangen Wie immer in diesem fortwährenden Grabenkampf War der Grund dafür banal und grausam Die Weggefährten der Linken Die für den Krieg gewesen waren Akzeptierten zwar das Bündnis mit den Faschi Wollten ihn aber nicht auf der Liste In dem Punkt waren sie hart geblieben Kein Mussolini Die Badesaison am Strand von Senegalian Neigt sich dem Ende zu Der September steht vor der Tür Dennoch hält die Schwüle an Am Ende dieses ersten Friedenssommers Sind die faschistischen Kampfbinder Auf ein kümmerliches Nichts zusammengeschrumpft Wenige hundert Aktivisten Ein paar Dutzend Ortsgruppen Keine politische Perspektive Zum Glück ist Italien so sonnig Zu sonnig Für die russische Revolution Ja, schönen Dank Grazie tante Antonio Scurati Qui manca una figura L'imperfetto Mentre Nei romanzi precedenti O del passato C'era sempre L'imperfetto Cioè Non solo Lei racconta Nel presente La forma grammaticale E' il presente Quindi è qualcosa In sospeso Non sappiamo Se questo E' sia piuttosto Un ludo spirituale O la voce Del narratore E' una oscillazione Tra il narratore E' l'io di Mussolini Si nota che sono un po' Le considerazioni Del giornalista Mussolini Dove vuole arrivare? Vuole arrivare al potere E lui analizza Le sue possibilità Per afferrare il potere Ma diversamente Dal suggerimento del titolo Lei non ha soltanto La M maiuscola Quindi non c'è semplicemente Quel protagonista Di M Io credo Che lei appartenga Alla generazione Che non crede più Che sono gli uomini A fare la storia Mussolini E' sempre circondato Da un mucchio Di compagni Di intriganti Di coprotagonisti Da oppositori politici Anche Quindi Qui si rivela Lui Come Una specie Una specie Di stella Dell'esperienza Perché Lui E' sdraiato Sulla spiaggia Lui guarda Acutamente Il presente Quindi Lui Incorpora L'esperienza Lui E' l'opposto Di mancanza Di inesperienza Per esempio La reazione A Caporetto Alla prima Grande guerra Lui ha detto Poco fa Che Il romanzo L'unico Genere Che possa fare Questo Così Lei si Distingue Dal Genere Normale Cioè La storia Contemporanea La storiografia Della storia Contemporanea Secondo lei Qual è La virtù Particolare Del romanzo Nel Narrare Le storie O la storia Che lei Vuole raccontare Una volta Un grande romanziere europeo Disse che Il romanzo È il paradiso Degli individui Questo grande romanziere europeo Milan Kundera Credo che Intendesse dire Che Chiunque Ha cittadinanza Nel romanzo All'interno Diciamo così Del racconto Del confine Del testo E ha cittadinanza Nel romanzo In quanto Individuo Non in quanto Parte di una collettività Suddito Di un reame Discendente Di una stirpe In quanto individuo Il romanzo Come è noto Il romanzo Moderna Esiste anche un romanzo Antico Ovviamente Nasce All'alba Diciamo così Della contemporaneità Come genere Tipicamente moderno Nella misura In cui Riceve il testimone Dall'epica Ma Come ci hanno insegnato I maestri Ne sovverte Il presupposto Se nell'epica Si cantavano Le gesta Memorabili Le grandi imprese Di grandi uomini Il romanzo Apre Il diaframma Sull'intera umanità Stabilendo Che qualsiasi vita È degna Di essere narrata In qualsiasi modo Lingua alta Bassa Media Lingua scientifica Lingua prosastica Il romanzo Assorbe Tutti gli altri linguaggi Il romanzo Nasce come genere Che racconta I drammi Sentimentali Delle servette Delle serve E viene letto Dalle servette In cucina Alla fine Di una durissima Giornata di lavoro Questa è la sua vocazione Essere una forma D'arte Popolare Anche se discende Da altezze Di grandissima erudizione In quanto tale Il romanzo È la forma Della Civilizzazione europea La forma letteraria Moderna È l'equivalente Letterario Della democrazia Torno a Milan Kundera Il romanzo È il paradiso Degli individui Non solo all'interno Dei confini del testo Ma anche all'esterno Qualunque individuo Come dicevo prima È Chiamato È ammesso Alla festa Ragione Che narrare La nascita Di una dittatura Il fascismo Che è stata La matrice Di Molte forme Di dittatura E di una concezione Dittatoriale Antidemocratica Della politica In Europa E non solo Attraverso la forma Del romanzo Se si rimaneva Fedeli a questo spirito Significava compiere Già un gesto Democratico Di antifascismo Ora Lei ha perfettamente Ragione Quando nota Che Pur essendo Questo un romanzo Storico Perché racconta Fatti accaduti Cent'anni fa È raccontato All'indicativo presente Ecco Questa Pur essendo Un romanzo Scritto Da un esponente Della generazione Dell'inesperienza Come io mi sono definito E Dà voce Dentro di sé A Un uomo D'esperienza Come pochi altri Un uomo Che è stato al centro Di eventi Di portata storica Che li ha Generati Che li ha cavalcati Qui c'è Un paradosso Ma è un paradosso Solo apparente Io credo Che una Delle condanne Delle forme Di povertà Spirituale Della mia generazione Di quelle successive Cioè Gli uomini E le donne Dell'inesperienza Sia quella Di aver smarrito Il sentimento Della storia Prima ancora Della conoscenza Della storia Prima viene il sentimento Cioè Quel modo Di essere Di stare Nel tempo Che ti ricorda Che tu non sei Il primo E non sei L'ultimo Che se Fai parte Di una schiera Enorme Di cui i viventi Sono solo Una piccola porzione Di cui la porzione Più grande Sono i morti E la porzione Ancora più grande Sono i non ancora nati Ecco Questo tipo Di sentimento Porta poi Alla conoscenza Storica Ma noi Abbiamo smarrito Questo sentimento Viviamo Nella cronaca Viviamo Nella cronaca Misuriamo Le nostre esistenze Individuali E collettive Sul metro Corto Del presente E proprio Perché io Penso Ciò E penso Che questa Sia una Grande Menomazione Spirituale Volendo Riprodurre Il sentimento Della storia Che è stato Negato Alla mia Generazione So però Che posso Farlo Soltanto Attraverso Un conflitto Mimetico Cioè Andando Molto Vicino Entrando Nella zona Di contatto Nella bagare In termini pugilistici Con il mio Avversario Con la cronaca E quindi Devo raccontare La storia Attraverso Un linguaggio Cronachistico Per consentire Quell'immersione Nei fatti Non vissuti Che è La prerogativa Del romanzo Troppo lunga Melodica Hermille Lo farò Senz'altro Però Io ho Una seconda Domanda Da Farle Adesso Non sento Bene Questo Grande Elogio Alla tecnologia L'aviazione Gli aerei La conquista Dell'impero Dell'aria Mussolini Faceva il pilota I piloti Prima Della Prima guerra Mondiale Erano Ingegneri Del progresso Erano Figure Affascinanti Nella grande guerra Questi Aerei Sono Stati Trasformati In macchine Di Distruzione Mussolini Ma anche Danunzio Dopo La prima guerra Mondiale Avviano Una enorme Propaganda Per Per l'aviazione Cioè La salita Nelle nuove sfere Di una nuova libertà Si rifacciano Rifanno A energie Rivoluzionarie Io vorrei sapere Da lei Il ruolo Il ruolo Il ruolo Dell'arte E dei romanzieri Lei ha detto Che Noi siamo Troppo distanti Dal Fare La storia Però Quella generazione Di Mussolini O del Un po' più Anziano Danunzio Hanno fatto storia Anche da romanziere Per esempio Danunzio Non è una Figura secondaria Danunzio Sta al fianco Di Mussolini Lui Intraprende Questo Grande Questa grande Impresa Di fiume Questo Raizu Fiume L'avventura Tecnologica Danunzio A fiume Ecco Un'avventura Di tecnologia Che gioca Un ruolo Importante La presenza Delle arte Figurative Soprattutto Delle arti Dell'avanguardia Soprattutto Nella ascesa Del fascismo Incontriamo Marinetti Danunzio L'amante Di Mussolini Margherita Sarfatti È Un'agente D'arte È A stretto Contatto Con le Avanguardie Artistiche Quindi Si può Dire Quindi Questa Esperienza È Già Si coinvolgono Nella storia Fanno la storia Gli artisti Ma Tanto Meglio Che la Sua Generazione Non lo Faccia Sì 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 Ma Io sono D'accordo Ma io sono D'accordissimo Non è un caso Se Lei notava Che E Prima La Direttrice L'Istituto Italiano Di Cultura Notava Che Questo Porta Una M In copertina Ma non è solo Il romanzo Di Mussolini È un romanzo Corale In cui Una delle Grandi Difficoltà Per me E mi auguro Di piaceri Per i lettori È di tenere Insieme Una 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 Miria De noma Decine Centinaia Di personaggi Maggiori E minori Lei ha ragione Quando dice Che È vero Poi Le generazioni Hanno Delle Aperture Ma Sono Anche Accumulano Una Sapienza Del passato E nessuno Di noi Può Credere Che la Storia Sia Fatta Da un Solo Uomo E Certo In Questa Moltitudine In Questa Moltitudine Ci Sono Anche Gli Artisti D'Annunzio Incarna Una Delle Ultime Non l'ultima Ma una Delle Ultime Figure Diciamo così Novecentesche Di Poeta Guerriero D'Annunzio D'Annunzio All'epoca Dei fatti Che io Racconto Quando fai Il ride Su fiume La Santa Marcia La chiamavano Loro Questa Piccola Cittadina Insignificante Che qualcuno Definiva Uno scoglio Nell'Adriatico E che D'Annunzio Eleva A scena Del mondo In cui Si decidono Le sorti Del trattato Di Versailles E Da lì Vorrebbe Proclamare Una nuova Epoca Di giustizia Sociale Di libertà Nei costumi Di rivoluzione Nelle idee Ebbene D'Annunzio Ci giunge Nel momento In cui È Il poeta Più Famoso D'Italia Ed è anche Il guerriero Più Rinomato E glorioso D'Italia Perché nel corso Della prima guerra mondiale Ha scoperto La passione bellica E Pur non essendo Più giovanissimo E non essendo Come dire Addestrato O fisicamente Adatto Ha compiuto Delle imprese Effettivamente Memorabili Ecco E Io racconto D'Annunzio Nella sua avventura Fiumana In questo esperimento Sociale Che anticipa Di 50 anni Molte cose Che poi accaddero Nella rivoluzione Diciamo Sessuale E culturale Del 68 In Europa Pensate che Tutti i costumi Sessuali Gli orientamenti Sessuali Le pratiche Sessuali Erano Non solo Tollerate Ma incoraggiate A Fiume A un certo punto Nitti Che all'epoca Era presidente Del consiglio Per cercare di risolvere Questo problema Che Fiume rappresentava Amanda Guglielmo Marconi L'altro italiano Famoso nel mondo Con il suo Con il suo Con la sua Nave Elettra Da cui Aveva realizzato La prima Trasmissione Radio Nella storia Per convincere D'Annunzio A lasciare Fiume E D'Annunzio È talmente seducente E seduttivo Che Non solo Marconi Non lo convince A lasciare Fiume Ma gli lascia Usare La radio Elettra La sua nave Per fare un proclama Al mondo E prima di andarsene Guglielmo Marconi Approfitta Per divorziare Dalla moglie Perché Nello statuto Che D'Annunzio Aveva dato Alla libera città Di Fiume Era consentito Il divorzio Per la prima volta Ecco Qui abbiamo Come il Mussolini Che pilota Il proprio aereo Mussolini promise A Margherita Sarfatti Questa straordinaria Figura di intellettuale L'unica donna Che probabilmente Lui abbia amato E che abbia influito Di lui Grande mecenate Grande critico d'arte Io sarò Il primo Capo di governo A pilotare Personalmente Il proprio aereo E mantiene La promessa Qui abbiamo Una Miscela Perversa Di Ultramodernità E di Spirito reazionario Fortissimo Perché poi Il fascismo È per molti aspetti Essenziali Un movimento Reazionario E antimoderno Ma Siamo Su un crinale In cui tutto È ancora possibile E questi uomini Lo sentono Sanno che tutto È possibile Che tutto Può ancora accadere Che la storia Può essere fatta E che qualcuno La farà Danno Questo assalto Violento Brutale Ma anche Raffinatissimo Alla storia Io ho raccontato Io ho raccontato Tutto questo Nella piena Consapevolezza Che tutto questo È estremamente Affascinante Ma estremamente Pericoloso Quindi Io so Che quando Lamento il fatto Che la mia generazione Sia caratterizzata Dall'inesperienza So benissimo Che queste generazioni Che hanno fatto La storia Sono responsabili Di mani tragedie E voglio Spero di essere riuscito Al tempo stesso A mostrare Il fascino Di questi uomini La loro capacità Di seduzione Che dura ancora E anche il fascino Del fascismo Dei suoi riti Delle sue coreografie Concepite da grandi artisti Come Mario Sironi Come Adalberto Libera Geniale architetto E con una mano Mostrare Quanto è affascinante Tutto questo Quanto è seducente Ma con l'altra Mostrare Quanto è sciagurato Quanto è portatore Di sciagura Quanto è mortifero Quanto è portatore Di morte Le due cose insieme Nella storiografia tedesca Sulla Repubblica di Weimar C'è la tesi Che i reduci della guerra Della prima guerra mondiale Ciò colore Che ritornano Dalle fosse Ciò che Benjamin ha descritto Come l'annientamento Delle esperienze Che loro fossero Sarebbero poi stati Incapaci Della democrazia Incapaci Di trattare Di raggiungere Un compromesso E anche Un tema Nel suo libro Non posso Elaborare tutto Voglio dire Soltanto questo Ha un Ordine cronologico Noi Attraversiamo Gli anni E una struttura Cronologica Dal 1919 20 21 22 Quindi è uno schema Cronologico Lei inserisce Questi fatti Con tanta documentazione E io vorrei Menzionare Poi quest'altro Fatto Ho un'altra figura Di chiave Perché È Matteotti L'assassinio L'assassinio di Matteotti È proprio Questo punto Cruciale Nel suo libro In cui Noi ci accorgiamo Del Responsabile La corretta La colpa Del fascismo E anche Di Mussolini Non è una vittima Qualsiasi Matteotti È In principio Quella Rettorica Cioè L'arma Della parola Usata Nella democrazia Lui Matteotti Era il maestro Della parola Lui rappresentava Anche un mondo Culturale Non alieno A Mussolini Perché Anche Mussolini Proveniva dal socialismo Questo Matteotti Gioca un ruolo Fondamentale Nel suo romanzo Perché Questo delitto Matteotti Viene descritto Molto da vicino E io direi In questo primo volume Lui è La grande vittima Non è soltanto Una persona Ma Al centro È La vittima La democrazia Rappresentativa Parlamentare Perché Alla fine Ecco Il bilancio Che anche Uno storico Frarebbe Il romanzo Racconta Dall'interno Il processo Di stabilizzazione Del potere Di Mussolini Dentro il Parlamento Attraverso Questa Uccisione E questa Questo annientamento Della resistenza Lei dice Io sono L'antifascista Che racconta Questa storia Dalla prospettiva Dei fascisti Per Raccontare La storia Ai giovani In un modo Tale Da forse Capire Il fascino Che Venne esercitata Sui contemporanei Questa figura Le figure Di vittima Che ruolo Svolgono O giocano Queste vittime Matteotti Sarebbe La grande vittima In questo primo volume Che viene Assassinata Un narratore Può farlo In questo O quell'altro Modo Il narratore Si può Concentrare Sui risultati Però Lei ha scelto Un'altra opzione Cioè Una descrizione Cinematografica Uno Vede Proprio Con i propri Occhi La gita Nella macchina Il trasporto Tutto Questa È una Fantasia Sua O è tutto Destilato Dalle fonti No È Tutto Minuziosamente Ricostruito Sulla base Di fonti Documentarie Mi è stato Fatto notare Non è la prima Volta Che questa scena La scena Drammatica Del rapimento Di Giacomo Matteotti Segretario Di uno Dei partiti Socialisti In pieno Giorno In pieno Centro Di Roma Da parte Di cinque Squadristi Sgherri Sicari Del fascismo Sembra Uno di quei Momenti In cui Lo scrittore Si concede Diciamo Una libera Invenzione Perché Inizia a essere Raccontata Tramite L'appostamento Di questi Rapitori E poi Assassini In questa Grande Automobile Chiusa E la prospettiva È dall'interno Dell'auto Loro che Stanno appostati E attendono Che Matteotti Si recchi In Parlamento A piedi E nell'auto Accadono alcune cose Uno di questi Si sente male Vomita Ebbene Tutto ciò Che io racconto Fin nel dettaglio Più Diciamo Corporale È basato Sulla documentazione Esistente Del processo Per l'omicidio Di Matteotti Sono testimonianze Incrociate Degli stessi Accusati Del delitto Di Matteo Anche Forse oso dire Soprattutto In questa scena Io mi sono Attenuto Al criterio Di ciò Che io definisco Romanzo Documentario Cioè Di una Aderenza Quasi Integrale Alle fonti Storiche Documentate O autorevolmente Testimoniate Certo Allo scrittore Resta Se vogliamo La messa in scena Una messa in scena Di tipo romanzesco Se vogliamo Usare il linguaggio Cinematografico Ma I fatti Sono Minuziosamente Ricostruiti Attraverso Documenti storici È la scommessa Di questo libro Possiamo creare Un romanzo E quindi Quella forma Democratica Vincente Coinvolgente Immersiva Diciamo Psevodo Esperienziale Attraverso Una rigorosa Adesione Alla realtà Storicamente Documentata O testimoniata E se lo facciamo Non anteponiamo Nessuna Diciamo Giudizio Morale O storico O ideologico Al racconto Ma se aderiamo Ai fatti In questo modo Così rigoroso E i fatti Sono quelli Di Che raccontano Di una dittatura Di un'oppressione Di un'ingiustizia Di una violenza Alla fine E della lettura Il giudizio Che il lettore Si formerà Del fascismo Sarà di una condanna Definitiva Ecco Questa è stata La mia scommessa Ed ha ragione Lei quando nota Che io dicevo Prima Ho deciso Di raccontare Di rifiutare Il paradigma Vittimario Che ha dominato Il racconto Negli ultimi 70 anni Di raccontare Dal punto di vista Dei carnefici Se vogliamo Degli attori Della violenza E questi sono Professionisti Della violenza Perché i cinque Assassini Di Matteotti Sono tutti Reduci Della prima guerra Mondiale Tutti Appartenevano Ai Ai Corpi speciali Ai commando In Italia Si chiamavano Arditi Ed erano Uomini della guerra Professionisti Della violenza Irriducibili Alla vita Democratica Come i Frei Corps Tedeschi Io ricordo Di aver studiato Anni fa Questo meraviglioso Libro molto noto Di Klaus Stableheit Che si chiama Fantasie virili In cui lui raccoglie Tutte le testate Testimonianze Appunto Dei Frei Corps Dei Dei Primi Dei nazisti Poi E uno di questi Dice Nel 18 Ci dicevano Che la guerra Era finita Noi ridevamo La guerra Eravamo noi Ecco La stessa cosa Vale per i primi Fascisti E per gli assassini Di Matteotti Ebbene Matteotti È L'unica vittima Di cui io racconto La storia Per ogni volume Ci sarà Una sola vittima Che in qualche modo Le riassume tutte Nel secondo volume L'uomo della provvidenza Che è appena uscito in Italia Da pochi giorni La vittima Il ruolo della vittima È tenuto Da un fascista Da uno dei gerarchi Del regime Augusto Turati Per cinque anni Segretario del Partito Nazionale Fascista Che poi cade Uno dei fascisti migliori Se vogliamo Insomma Più intelligenti Più anche più retti Che cade vittima E fa una fine Diciamo pubblica Atroce Dello stesso meccanismo Di potere perverso Che lui Ha contribuito A creare Adesso arriviamo quasi Al secondo volume Il potere Il consolidamento del potere Alla fine del primo volume E sempre accompagnato Da ciò che possiamo Chiamare Il fascismo E l'espansionismo Questo era il caso Anche per il nazionalsocialismo tedesco Anche per il fascismo italiano Nel primo volume Abbiamo Poi Questo Questo attacco Alla costa adriatica Dall'altra parte Dalla sponda Albanese Nel secondo volume Il colonialismo Italiano Gioca un ruolo importante E più Antico del fascismo Cioè esisterà già prima Però nel suo progetto In questo secondo volume Questi passi Sul colonialismo In Africa Del nord Sono una specie Di Intensificazione O Espansionismo Dell'avventura Del raid Su fiume Quindi Si apre Un nuovo Orizzonte Dell'azione Per i lettori tedeschi Questo è sicuramente Qualcosa di nuovo Molti lettori tedeschi Non Sanno Niente Del colonialismo Italiano Ecco perché Vorrei sapere Da lei Dal suo punto di vista Come si descrive Questa Impresa Coloniale Perché Non è sempre Soltanto Mussolini A giocare Il ruolo principale Ma subentrano Altre figure Altri attori Su questa Scena Nuova Io vorrei Sapere Da lei Come si Possono Combinare Questi due Mondi Cioè L'elemento Dittatoriale Del fascismo Nella Politica Interna Nel Consolidamento Del potere E poi Anche L'espansionismo Questa Vena Espansionistica Sì Ok Ermill Le confesso Che c'è stato Una interruzione Di collegamento Però Ho colto Quasi La sua Intera domanda Spero Spero Di non Spondere A casaccio Sì In questo Secondo volume Si racconta Un aspetto E degli accadimenti Che non solo Sorprenderanno Il pubblico Tedesco Ammesso Che qualcuno Abbia voglia Di leggerlo Ma che Sono largamente Ignoti E ignorati Anche dal pubblico Italiano Così come È vero Che Questo racconto Che io ho fatto Del fascismo Nell'intero Primo volume È suonato In qualche misura In audito Non solo ai giovani Ma A moltissimi lettori Di tutte le generazioni Ed è apparso In audito A me per primo Mentre lo scrivevo E lo studiavo Comunque Ciò che accade È che Nella seconda metà Degli anni venti Quando Mussolini Ormai ha trionfato Su tutti i suoi Oppositori E il regime Va consolidandosi E Mussolini Va progettando Uno stato Totalitario Usando questa espressione Stato Totalitario Che noi siamo soliti Associare Al nazismo Tedesco O al comunismo Stalinista In Russia Ma che il fascismo Per primo Cerca di realizzare Usando questa espressione Totalitarismo Già nella seconda metà Degli anni venti Di questo tentativo Di realizzare Uno stato Totalitario Fa parte La cosiddetta Impresa Coloniale Cioè Quest'ultima forma Di espansionismo Di uno stato Europeo Quando ormai Il colonialismo È già arrivato Al suo punto Di massima espressione E sta anzi Regredendo Che gli italiani Realizzano Prima in Libia Allora Io racconto Come Lei ha ragione A notare Che il colonialismo Era un fenomeno Europeo Legato al nazionalismo Europeo All'imperialismo Europeo Pre fascista Pre totalitario Però Ciò che gli italiani Fanno Nella seconda metà Degli anni venti In Libia Porta Nelle guerre Coloniali Quell'esperienza Della iperviolenza Che è stata fatta Nelle trincee Della prima guerra mondiale In Europa E segnatamente In Libia In questa campagna Di riconquista Del territorio libico Perduto In parte Durante la prima Guerra mondiale Gli italiani Con l'avallo Di Mussolini Con la Firma Di Pietro Badoglio Che all'epoca Era Governatore Della Tripolitania E della Cirenaica E che poi Nel 43 A cui sarà affidato La sorte Dell'Italia Liberata Diciamo Dal fascismo Decidono Deliberatamente Per Prevalere Sulla resistenza Dei guerrieri Senussiti Che non riescono A sconfiggere In nessun altro modo Di deportare Centomila civili Mettono in atto Una vera e propria forma Di genocidio Rendendo Centomila Donne Vecchi E bambini Perché gli uomini Sono quasi tutti A combattere Degli altipiani Del Gebel Dell'interno Della Cirenaica E li deportano In massa In delle marce Della morte In questi territori Desolati Verso la fascia Desertica Precostiera E lì Costruiscono Un sistema Di ben 18 campi Di concentramento Campi di concentramento Che vengono Così Definiti Nei documenti Ufficiali Non sono ancora Campi di sterminio Però Le condizioni Atroci Di vita In cui Questi centomila Civili Vengono costretti Producono Una mortalità Del 50% Degli internati Ecco Noi siamo abituati Ad associare L'idea Di totalitarismo E di campo Di concentramento Appunto Al nazismo Tedesco O al comunismo Sovietico Stalinista Ma Già nella seconda Metà Degli anni 20 Stiamo parlando Del fatto Che la campagna Di Libia Comincia Nel 27 E si completa Con i campi Di concentramento Nel 1930 Il fascismo Italiano Aveva Sperimentato Entrambi Totalitarismo E Un sistema Su grande scala Di campi Di concentramento Si spreche In 1930 Lei parla Del 1930 O 1929 Badoglio Pietro Badoglio Il governatore Della Cirenaica Nel 1929 C'è un'altra Scena Nel suo libro L'ufficio Del capo Del governo Si trasferisce Da palazzo Chigi A palazzo Venezia Quindi Per così dire Vede il Mappamondo Si può interrogare Qual è il posto mio Nel cosmo Nel 1930 Hitler non è ancora Al potere La seconda guerra mondiale Dista quasi dieci Ed esiste già Questo campo Di concentramento Che lei Non descrive Solo in parole Abbiamo nell'edizione Italiana Anche una foto Di questo Campo di concentramento Ascoltiamo Ora Letto Questo passo Già tradotto In tedesco Questo passo Che descrive Questo campo Di concentramento Partendo da Quella fotografia Che il lettore Può vedere Nel libro Frühling Sommer 1930 Die Fotografie Der italienischen Konzentrationslager In Libyen Gleicht Einer archäologischen Luftaufnahme Einem jener Aus großer Höhe Gemachten Bilder Die es Archäologen Jüngst ermöglichen In den Färbungen Schattierungen Und Bodenfeuchte Stufen Der Erdoberfläche Spuren Alter Verschwundener Zivilisationen Zu lesen Fast strahlt Dieses rätselhafte Farblose Geruchlose Und vor allem Fühllose Bild Etwas friedliches Aus Es ist der Friede Der Auslöschung Der kalten Asche Dessen Was von uralten Feuern bleibt Wenn jede Glut Erloschen ist Es ist die Aura Vergessener Orte Jeglichen lebendigen Treibens Seit Jahrhunderten Bar Das macht die Fotografie Zu einer perfekten Illustration der Theorie Die in den Ministeriellen Grundschreiben Eingehend Dargelegte Faschistische Theorie Der Konzentrationslager Besagt Dass die deportierte Bevölkerung Die zwar feindlich Ist jedoch nie Mit Waffen Gegen Italiener Gekämpft hat Nicht offiziell Als feindlich Einzustufen Und deshalb Zivil Zu behandeln Sei Somit sollte Der Bau Der Lager In ebenen Gegenden Mit fruchtbarem Boden Und ausreichenden Wasserressourcen Erfolgen In unmittelbarer Nähe Friedfertiger Fügsamer Einheimischer Sobald geeignete Orte Ausgemacht Sind Werden Die Lager Von denen Sich einige Über zehntausende Quadratmeter Erstrecken Nach dem Quadratischen Grundriss Des römischen Kastrums Geplant Von zwei Jeweils 30 Meter Breiten Straßen Dem Kardo Und dem Dekumanus Im rechten Winkel Durchzogen Mit einem Großen Platz In der Mitte Und vier Vierteln Ringsum Die aus Tausenden In 15er Oder 20er Reihen Angeordneten Durch breite Wege Getrennten Unterkünften Bestehen All das In Anlehnung An ein Glanzstück Der lateinischen Zivilisation Deren Erbe Zu sein Das faschistische Regime Bestrebt ist Eine weitere Referenz An das Genie Italienischer Hochkultur Sind die Zur Unterbringung Der deportierten Vorgesehenen Zelte Geplant Sind Militärzelte Modell Leonardo Da Vinci Aus Durabler Beige Farbener Leinwand Mit Quadratischem Grundriss Eine Innenfläche Von rund 30 Quadratmetern Und zweieinhalb Metern Maximalhöhe Von denen Jedes Einem Familienhaushalt Bequem Beherbergen Kann Die In den ersten Monaten Des Jahres 1930 In Rom Durchgeführten Erhebungen Zu den Standorten Soluch El Agayla Agidabia Sidi Ahmed El Magrún e Marsa El Brega hanno un sottotitore un sottotitore per i materiellen e spirituelli per i Deportiati con una grande perdita brunnen con mechanica Schepfvorrichtung un unzòinti areal per la Viehunterbringung moderne aus Beton errichtete Hygienebereiche con fliessi duschi e getrennti klosettes per i meni e le donne mediziniche Einrichtungen Behindertunterbringungen und sogar in Ziegelbauweise ausgeführte islamische Kultstätten für bis zu 500 Personen geplant physische und geistige Hygiene körperliche und spirituelle Gesundheit konzeptionelle und materielle Ordnung nichts ist von den römischen Bürokraten in der Lebensferne ihrer bräsigen ministeriellen Vormittagsstunden außer Acht gelassen worden ehe ihnen das reichhaltige Mittagessen zum Festpreis und das ausgiebige Nachmittagsschläfchen denkt ein eingefleischtes Laster das nicht einmal der Dutsche hat ausmerzen können doch wie man weiß neigt das Leben nun einmal dazu die Theorie Lügen zu strafen vor allem wenn dieses Leben kurz vor dem Untergang steht und tatsächlich wenn wir uns in den Sinkflug begeben und allmählich der Erde nähern erweist sich die dunkle Doppelreihe am Rand des Lagers als zweifacher Stacheldrahtzaun dann erkennen wir die zwischen den dreien dreckstarrender zerlummter Zelte klaffenden Zwischenräume und schließlich wenn unser Gleitflug fast den tiefsten Punkt erreicht hat entpuppen sich die schwarzen Pünktchen die wir zuerst auf die Körnigkeit des Abzugs geschoben haben als zu einem Larvendasein gezwungener menschliche Wesen eines von ihnen ein junger Mann mit olivfarbener Haut steht mitten auf der weiten Kreuzung von Cardo und Dekumanus wie ein auf dem Zeugnis städtebaulicher altrömischer Glorie niedergebrannter Busch gänzlich nackt unter der senkrechten afrikanischen Sommersonne mit geschlossenen Füßen hängendem Kopf und herabgefallenem Unterkiefer die Arme am Körper ausgestreckt an denen zwei dicke mit Seilen befestigte Steine von den Handgelenken baumeln ein gekreuzigter Christus dem selbst das stützende Kreuz verwehrt ist wie üblich hat die Folter am Mittag begonnen gleich nach der katholischen Sonntagsmesse und wie üblich hat die gesamte Bewohnerschaft des Lagers die sich auf den Beinen halten kann ihr beiwohnen müssen die Folter hat am Mittag begonnen doch bedenkt man die Temperatur von 40 Grad im Schatten wird sie nicht mehr lange dauern mag der Gefolterte noch so zäh sein ringsum diesen kläglichen von der Tortur lebendig versteinerten Restmensch sind verwohnte von den erbarmungslosen Wüstenbinden zerschlissene Zelte zu erkennen gemauerte Gebäude die wegen der tiefen Klaffe die die Zeit in die minderwertigen bröseligen Materialien gerissen hat nicht benutzbar sind die stickige Gluthitze ist erfüllt vom Stank der gähnenden verdreckten Brunnen der in der Sonne gärenden Exkremente die aus den verstopften Latrinenquellen der eiternden Wunden der Behinderten die sich wie altes Gerümpel in den Lazaretten stapeln in denen Desinfektion ein Fremdwort ist aus Augenhöhe betrachtet macht das Konzentrationslager von El Abiyar die Theorie Punkt für Punkt zunichte Durch das Sieb der Unterschlagung Diebereien und des allseitigen Materialschwuns gestrichen widerlegt die knochendürre Magerkeit der internierten die strengen Ernährungsvorschriften der Kolonialverwaltung pro Einheimischen tagtäglich 650 Gramm Brot eine Reis- oder Nudelmahlzeit mit Tomate, Öl und Zwiebel zwei Tassen Tee oder Malzkaffee mit Zucker eine Zitrone eine rohe Zwiebel und zwei Liter Trinkwasser Die unübersehbaren Symptome von Ruhe Flecktyphus Malaria Skorbut Salmonellose Pocken und alle Arten von Blutvergiftungen strafen die Planungen der Gesundheitskommission Lügen Der Gestank der verwesenden Leichen Hohn sprechen dem Vorhaben der militärischen Bauplanung Friedhöfe zur Bestattung der Toten in sicherer Entfernung von Lagern und Grundwasserleitern zu errichten Und schließlich wird das Programm moralischer Hygiene und Lauterkeit von den Flecken der nässenden Harnleiter auf den Kaki-Hosen der Wachen widerlegt Unverkennbare Hinweise auf den Tripper der zusammen mit Syphilis Sohr und Feigwarzen beim fleischlichen Handel übertragen wird zu dem die eritreischen Askaris und italienische Soldaten gleich welchen Dienstgrades oder Ranges welcher Nationalität Religion politische Überzeugung oder Hortfarbe die jungen Töchter der Deportierten Zwingen Das Einzige was von der theoretischen Planung der weißen Zivilisationsbringer gewissenhaft in die Tat umgesetzt wurde von der am römischen Kastrum inspirierten Lagerarchitektur einmal abgesehen sind die Bestrafungsmethoden In der gleißenden Sonne des afrikanischen Sommers flirren die Galgen wie eine asige Vater Morgana über die weite Kreuzung von Kardo und Dekumanus Dort wird der Gefolterte aufgeknüpft kaum dass seine Arme dem Gewicht der Steine nicht mehr standhalten und sein Körper überwältigt von einem unbändigen Drang mit der Erde zu verschmelzen in die Stille des Anorganischen zurückzukehren zusammenbricht Dieser letzte Wunsch wird ihm verwehrt man hieft seinen nahezu entseelten Körper hoch um ihn vom Galgen baumeln zu lassen Von den italienischen Peinigern gezwungen wohnen Väter Brüder Freunde und Verwandte jeden Grades einschließlich der Frauen und Kinder der Martha bei Ja Antonio Scurati Antonio Scurati in questo passo esiste ciò che si può chiamare il potere del documentario e anche la forza del documentario c'è una differenza tra la descrizione dell'assassinio di Matteotti e queste azioni e si può dire anche queste azioni di annientamento all'interno di questi campi di concentramento con le torture ecco la distinzione è l'aspetto dei grandi numeri la massificazione della morte già nella letteratura del primo dopo guerra certi autori hanno rotto la tradizione del romanzo che guardavano l'individuo negli tardi anni 40-50 si vede anche un abbandono del romanzo perché la massificazione della morte si sottrae al genere di romanzo come si possono descrivere questa burocratizzazione della deportazione poi anche il trasferimento di enorme quantità di persone sono esistenze nomadiche che sono accatastate in un campo questo mi interessa lei si avvicina molto a queste tradizioni che lei sostiene di aver abbandonato cioè quel focus sulle vittime perché leggendo questo o ascoltando questo racconto nessuno potrà immedesimarsi nei carnefici lo spero lo spero vivamente me lo auguro il il pericolo di generare con questo racconto un'immedesimazione con i carnefici è il più grande rischio che io ho corso e che ho cercato di evitare in tutti i modi assegnandomi questa disciplina molto rigorosa di adesione alle fonti documentarie di negazione di ogni libera invenzione per esempio non c'è nelle 1500 pagine che compongono i due volumi non c'è un solo dialogo inventato se compaiono dei dialoghi è perché sono registrazioni di intercettazioni telefoniche o trascrizioni di arti parlamentari o atti processuali o insomma dialoghi documentati da testimoni io volevo evitare a tutti i costi quella che è una tendenza molto diffusa diciamo nell'immaginario contemporaneo artistico che è quella della cosiddetta empatia negativa cioè film serie tv anche libri che raccontano di carnefici a vario titolo e generano nel lettore nello spettatore una partecipazione emotiva un'empatia con il personaggio negativo io volevo evitare in tutti i modi questo e spero di esserci riuscito in questo brano in particolare io voglio chiarire una cosa io spero di non aver affatto abbandonato quella tradizione novecentesca di racconto dal punto di vista delle vittime spero che quella tradizione in cui io mi sono formato sono tutti i libri che io ho letto nella mia formazione viva in qualche modo dentro di me io ne possa essere nel mio piccolo erede la porti con me diciamo in questo nuovo esperimento e non credo neanche di averla superata né sono un'erede spero spero mi auguro questo è il mio auspicio e la porto avanti verso una nuova stagione diciamo senza dimenticarla senza abbandonarla nella fattispecie in questo brano io per esempio cosa ho fatto sì raccontare il massacro no la violenza di massa di tipo totalitario o tendenzialmente totalitario è qualcosa di molto diverso dal racconto dell'assassinio della vittima individuale e allora qui c'è una specie di collage allora io prendo i documenti ufficiali di quella burocrazia fascista che progetta i campi di concentramento li faccio miei li incorporo con quella minuziosa ossessiva previsione di tutti i provvedimenti la profilassi igienica l'ingegneria dei campi che poi non viene realizzata e la rivolgo contro i burocrati ma sono le loro parole capisce sono i loro progetti che poi si trasformano nell'opposto io ho trascritto interi brani dei loro dei documenti con cui al ministero a Roma progettavano i campi di concentramento al tempo stesso però ho preso le testimonianze degli internati delle vittime in questo caso che raccontavano e sono disponibili le condizioni di vita nei campi e le ho accostate l'una all'altra le ho fuse insieme e poi mi sono messo davanti a quella fotografia e ho fatto un esercizio di ciò che la retorica classica chiamava ecfrasis cioè una descrizione verbale di un'opera d'arte o di un elemento diciamo visivo io oggi Antonio Scurati nato nel 1969 in Italia nel nord Italia nell'Europa occidentale cresciuto a Venezia che ha trascorso tutte le sue le estate della sua vita a Ravello un magnifico paese della costiera amalfitana che vive a Milano che ha avuto il privilegio di appartenere al pezzetto di umanità più ricco più agiato meglio nutrito meglio vestito più longevo meglio curato che abbia mai calcato la faccia della terra rispetto a qualsiasi altra epoca storica a qualsiasi luogo del pianeta io oggi quando mi metto di fronte a questa fotografia che è una fotografia per me non è un vissuto cosa vedo ecco queste tre cose cosa vedo io oggi da qui su questo pezzo di terra sotto questo cielo e poi le parole dei carnefici rivoltate contro di loro e quelle delle vittime fuse insieme questo brano nasce da questa diciamo da questa complessità siamo alla fine del secondo volume ottobre 32 poi arriva il periodo prima della guerra poi la seconda guerra mondiale fino alla morte di Mussolini lei ha annunciato una trilogia rimane questo progetto una trilogia no è diventato wagneriano adesso sarà una tetralogia mi sono mi sono reso conto che per raccontare la repubblica sociale italiana cioè gli anni del 43 dopo la caduta del regime fascista fino alla fine della seconda guerra mondiale e quindi anche l'occupazione nazista di parte dell'italia ci vorrà un libro a parte quindi il progetto oggi è un terzo volume in cui racconterò diciamo così l'abisso le leggi razziali la seconda guerra mondiale fino al luglio del 43 e poi un quarto volume in cui racconto l'occupazione nazista dell'italia la repubblica sociale la resistenza alla lotta partigiana e posso dire visto che stiamo parlando diciamo ad un evento anche se virtuale che accade in Germania che credo proprio adesso c'è questo secondo volume che so che sarà tradotto in Germania ne sono molto lieto e anzi approfitto per ringraziare Fred Cotta l'editore che ha creduto insomma in questo libro gli sono molto grato così come sono molto grato alla signora von Korskuhl che l'ha tradotto e quindi spero che adesso il pubblico tedesco intanto lega questo secondo libro però posso dire che il terzo volume a cui sto già pensando dovrebbe cominciare e questo secondo finisce nell'ottobre del 32 il terzo volume ci sarà un ellissi temporale e comincerà nel 38 con la visita di Hitler in Italia la prima volta che Hitler viene in Italia per fare il turista delle città d'arte visitò prima Firenze e poi Roma andando in giro per musei per monumenti e quindi credo proprio che nel terzo volume il primo la prima scena il primo personaggio ad apparire sulla scena non sarà Mussolini ma sarà Hitler però devo ancora scriverlo nel terzo volume ci vorrà parecchio tempo anche perché sono terrorizzato dall'idea di permi confrontare con il nazismo che è una cosa ma non perché mi spaventi più del fascismo ma perché credo che sia una materia narrativa che è impossibile per me diciamo così padroneggiare però ovviamente Hitler entrerà in scena lei ha ringraziato l'editore e anche il traduttore io posso riferirle anche il ringraziamento di un'ascoltatrice che la ringrazia per aver combinato il fascismo con l'argomento del colonialismo italiano così contribuendo a migliore conoscenza la ringrazio molto Antonio Scurati adesso cedo la parola alla professoressa Foi dell'Istituto Italiano di Cultura è venuto il momento dei ringraziamenti finali oltre a chi ci ha seguito finora in modo virtuale non resta che ringraziare tutti e sono davvero tanti quelli che si sono impegnati per realizzare questo interessantissimo dialogo in primo luogo ovviamente Antonio Scurati e Lothar Müller li abbiamo ascoltati grazie al lavoro straordinario degli interpreti Ioannes Hampel per la traduzione simultanea dal tedesco e dall'italiano con lui hanno collaborato per il sottotitolaggio vera arma di Artis Nina Cisneros e Tino Brandt e per l'interpretariato in inglese ricordo Gisela Tanch e Francesca Ruffo per la sua convolgente lettura dei testi un grazie di cuore va a Frank Röder e alla casa editrice Clet Cotta e grazie ancora anche a Marco Vigevani e alla casa editrice Bonpiani questo incontro è stato fortemente voluto e reso possibile grazie al grandissimo impegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Colonia nelle persone di Maria Pazza e del coordinatore Luigi Reitani e in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Germania e il Consolato Generale d'Italia a Francoforte e anche loro vanno ringraziati a me non resta che ricordare concludendo due prossimi eventi letterari italiani in parallelo e in intersezione diciamo con la fiera venerdì una lettura dantesca di Udo Samel al Goethe Museum e sabato l'incontro digitale con Paolo Di Paolo su suo nuovo romanzo Fast Noa eine Liebesgeschichte quasi solo una storia quasi solo d'amore ma ringrazio ancora tutti voi e vi mando un cordiale saluto da Berlino e naturalmente una rivederci al prossimo anno grazie e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti